Mi sono trasferita in Italia dalla Colombia nel 2004. Avevo portato con me una valigia e tanti sogni. Avevo un estremo bisogno di stabilità, anche economica. Ho tapezzato tutta Como con il mio curriculum e finalmente vengo contattata da McDonald's. Il lavoro come responsabile di accoglienza al cliente è davvero perfetto, che mi ha permesso non solo di essere indipendente, ma anche di integrarmi più in fretta. Mi piace che i nostri ospiti si sentano a casa, che siano soddisfatti. E grazie a questo lavoro ho potuto crescere i miei bambini e anche aiutare i miei genitori dall'altra parte del mondo. Mi ha proprio insegnato a credere in me e a dare il meglio di me stessa.